Torneo di calcio, concerto, intrattenimento musicale, messa con tre vescovi, queste le novità dell'edizione 2017 della festa di San Panfilo, patrono della città di Sulmone e della diocesi di Sumonavalva. Per il secondo anno consecutivo la parrocchia della Basilica Cattedrale di San Panfilo è organizzata la due giorni di festa civile, fermo restando la parte religiosa che resta il cuore pulsante della ricorrenza. Tutto comincerà giovedì 27 aprile con la seconda edizione del San Panfilo Cup, il torneo di calcio che si svolgerà nel pomeriggio presso l'Istituto Rottrina Cristiana, in campo giovani e ragazzi che saranno divisi per squadre, ad ogni squadra sarà associato il nome delle parrocchie cittadine. La giornata del 28 aprile, festa di San Panfilo si aprirà alle 9.30 con il risveglio musicale della città a cura del complesso bandistico Città Dentro d'Acqua diretto dal maestro Vito Di Benedetto. Alle 12.30 e alle 16.30 mattinè intrattenimento musicale, non mancheranno alle 20.30 fuochi pirotecnici in concomitanza con il rientro del corte processionale. Alle 21.30 chiusura col botto con la serata musicale Francesco Mammola in concerto. La festa religiosa si è già aperta con la novena che ha coinvolto le parrocchie della città di Sulmona. Giovedì 27 aprile alle 18.00 sarà esposto il busto di San Panfilo nella Basilica Cattedrale. Alle 22.00 torna la veglia di preghiera animata dalla pastorale giovanile. Venerdì 28 aprile la Santa Messa delle ore 17 assume un tocco solenne e non indifferente dal momento che sarà ufficiata dall'Arcivescovo Metropolita dell'Aquila Giuseppe Petrocchi è concelebrata la Vescova di Summona Valva Angelo Spina e Vescova Emerito Giuseppe di Falco, tre Vescovi in una sola celebrazione. Seguirà la processione per le vie del centro storico cittadino con la partecipazione dell'Arci Confraternia della Santissima Trinità e della Confraternia di Santa Maria di Loreto.